Qual è il valore di questa reliquia legata a San Francesco d'Assisi? Siamo a distanza di 800 anni da quando Francesco ricevette sul monte di Laverna il dono delle sacre stimmate. Il suo valore dopo 800 anni è quello di raccontarci ancora che l'amore di Dio imprime nella nostra vita e anche nella nostra carne, come è stato per San Francesco, un segno indelebile. Che cosa ci dice questo santo oggi? Francesco in modo particolare oggi, in quest'ora imminente, ci racconta attraverso i segni della passione di Cristo impressi nel suo corpo, come tanti in questo momento languiscono sotto la sofferenza e il terrore della guerra, in modo particolare di tutto ciò che in qualche modo allontana il mondo dalla pace. Francesco ci ricorda oggi quanto mai è necessario questo desiderio di pace che si eleva proprio da tutta l'umanità per sua intercessione. Un desiderio di pace e di dialogo, proprio come ha fatto lui? Sì, la capacità di chiedere al Signore, come ha fatto lui, di parlare. Chiediamo al Signore proprio in questa notte che Lui possa parlare al nostro cuore e per intercessione di San Francesco possa ispirarci parole sante, parole che conducono, come per Francesco, al Vangelo, l'unica nostra regola di vita.